Novivelia, il sindaco va al matrimonio, i gnoti chiudono l'acqua. Sabotata nella giornata di ieri la condotta idrica del paese, numerosi cittadini sono rimasti dalle 18.30 alle 21 circa senza acqua. È il terzo caso che si verifica negli ultimi due mesi. Il sindaco Maria Ricchiuti ha già presentato denuncia contro i gnoti per danneggiamento di bene pubblico. Il primo sabotaggio nel mese di giugno, successivamente il 12 agosto. In quest'ultimo caso, palle di erba sono state ritrovate nelle tubazioni. situate nei prezzi delle sorgenti. Novivelia ha la gestione autonoma della risorsa idrica con propri tecnici. L'autore o gli autori dell'insano gesto studiano bene i casi, scegliendo meticolosamente come e quando agire. I colpi infatti sono stati messi a segno quando il sindaco e i tecnici comunali sono fuori paese. Un mese fa l'intera amministrazione stava partecipando ad un matrimonio. Anche ieri la Ricchiuti, insieme agli altri consiglieri comunali, al tecnico addetto alla manutenzione degli impianti idrici, era tra gli ospiti del matrimonio del vice sindaco Giovanni Guzzo. Si dice rammaricata il sindaco Maria Ricchiuti per quanto accaduto ieri. Sulle cause del disservizio sono ancora in corso le indagini. Resta comunque l'amaro in bocca per l'atteggiamento assunto da qualche scalmanato che si diverte a giocare con l'acqua.